Per quest'anno è fatta, non si può tornare indietro. Il piano di dimensionamento scolastico con i conseguenti accorpamenti degli istituti sarà attuato così come previsto dalla delibera della Regione Puglia dello scorso gennaio. Ma si sbaglia chi, come alcuni sindacati, scrive che è stato inutile aver ottenuto ragione dalla Corte Costituzionale, né certa Lucrezia Stellacci, capodipartimento del Ministero della Pubblica Istruzione. La sentenza ha ribadito che nessuno può mettere mano a quelli che sono i criteri di razionalizzazione della rete scolastica, che è una competenza esclusiva della Regione. Quindi questo, in verità, più volte è stato dimenticato dal Governo. Invece, finalmente è stata messa una pietra sopra. Non c'è assolutamente alcuna possibilità da parte dello Stato di intervenire in quelli che sono i criteri di razionalizzazione. Però si è detto anche un'altra cosa nella sentenza, e cioè che lo Stato, dovendo dare il personale, e quindi dovendo dare in questo caso i dirigenti scolastici, può decidere che numero di dirigenti scolastici dare. E quindi, nonostante tutta la libertà, la discrezionalità che ha la Regione, e poi deve fare i conti con il numero dei dirigenti scolastici che il Ministero assegna. E che assegna, certo, non per piacere, ma perché deve concordare il tutto con il Ministero della Funzione Pubblica, con il Ministero delle Finanze. E questo è quello che si farà dall'anno 21. Sul fronte delle buone notizie, la Stella ci preannuncia ai nostri microfoni una notizia attesa da 13 anni. Una buona notizia è un concorso per docenti. Dopo 13 anni che non viene bandito un concorso, il Ministro si azzarda, si butta nel lagone e vuole bandire un concorso. Penso che fra un mese sarà bandito, abbiamo già l'autorizzazione della Funzione Pubblica e del Tesoro. Finalmente un regolamento che disciplini il sistema nazionale di valutazione delle scuole, perché è un'autonomia senza valutazione. Abbiamo visto i frutti che dà. E quindi una valutazione della produttività delle scuole, ma con riferimento essenzialmente ai livelli di apprendimento dei ragazzi, ma anche del personale e dei dirigenti scolastici. Quindi questo ci equipara all'Europa, perché noi eravamo indietro rispetto a tutti gli altri paesi europei. Questo regolamento dovrebbe andare al Consiglio dei Ministri venerdì prossimo forse.